Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1, il modello è in scala 1 a 4 e un'edizione di Agostini, uscita numero 46 delle 91 previste. Saluto volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a dar vita al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella sempre che ne abbiate piacere, date anche un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Questi fascicoli sono davvero molto ricchi, il lavoro editoriale che c'è dietro è veramente importante, le foto sono bellissime, però direi che si potrebbe usare una risoluzione ancora più nitida per le immagini, queste si capiscono perfettamente bene, però ecco penso che si potrebbe fare qualcosa di più. Adesso andiamo a vedere quello che ho trovato, tubo di comma, manicotto, una cosa bellissima come anche nell'altro che ha preceduto questo è la finta fascetta evidenziata con il colore argentato, qui abbiamo i due tubi olio, il più lungo e il più corto e due serie di diti V e K dove questa è da avvitare nella plastica e questa è da avvitare nel metallo. Ci servirà il radiatore e la staffa che abbiamo avanzato dall'uscita numero 45, la precedente a questa. Bene, io la prima cosa che sono andato a fare è prendermi una vite K e sono andato ad avvitarmela qui, poi ho preso due viti V e sono andato ad avvitarmele qui. Non vi serve a creare il filetto perché è già esistente. A questo punto proviamo l'entrata del manicotto mettete la riga, quella che vedete di giunzione, che non sia visibile quindi all'interno non vi costa nulla, vedete qui così è molto brutta da vedere anche se c'è la carena però è una cosa che vi serve anche quando monterete altri modelli. Qui si inserisce perfettamente bene quindi andiamo a inserirla qua che magari facciamo più fatica no comunque lasciamola pure lì così vado a rimuovermi questa vite così poi vado a prendere il tubo più lungo ma prima di fare questo essendo il tubo più lungo da mettere qui guardate e il tubo più corto da mettere qui oh scusatemi non lì ma aspettate no 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 questo è giusto e questo ah eccolo qui qua sotto e questo da mettere qui non serve mettervi la colla perché poi sarà tenuto fermo da questi due fori dedicati però prima di fare questo vedete poi va montato così controllatevi l'entrata di questo tubo e anche dell'altro lo inserite vi accertate che arrivi fino in fondo senza danneggiare nulla e poi lo sfilate la stessa cosa fate con quello sotto sarete così certi che il tubo sarà così perfettamente a filo con la battuta perfetto quindi vado a posizionare il tubo più lungo qui questo lo vado a mettere qui mi vado a rimuovere le due viti di attenzione a maneggiare il modello a come lo appoggiate perché è possibile anche danneggiarlo fate quindi attenzione ecco qua mettiamo anche la staffa qua sotto quella che abbiamo trovato nell'uscita precedente e andiamo a metterci questa vite che abbiamo che ho inserito nel numero precedente e che comunque vi dico subito è una vite K così adesso mettiamo questo che è bella questa moto ragazzi ma pensate solo a tutto il lavoro che c'è dietro vado a rimuovermi anche questa vite qui che è sempre una vite K e adesso monto tutto quindi questo va messo qui ci conviene forse mettere prima le due viti di sopra quelle attaccate alla culla del telaio quasi vicino alla culla non stringiamo assolutamente fino in fondo mettiamole tutte e due altrimenti rischiamo che se si piega maldestramente il radiatore si possa rompere la staffa dall'altra parte ecco adesso questo va messo qui senza avere alcuna fretta non ci corre dietro nessuno con calma il manicotto è la prima cosa che dobbiamo mettere perché è più lungo di tutte le altre cose non ci dimentichiamo anche questo facciamo così inseriamo tutto questo e poi vado a svitarmi queste altre parti qui ma ci aiuta a non rompere nulla ve lo garantisco poi per mettere invece questo manigotto vado a rimuovermi le due viti intanto mi vado anche a fissare anzi no prima arriviamo a inserire tutto bene altrimenti non potrà mai arrivare la staffa così avete visto perché vi ho fatto inserire i primi perni all'interno altrimenti poi diventa quasi impossibile riuscire ad arrivare fino in fondo ecco io adesso sono perfettamente arrivato in battuta guardate più di così non entra e infatti corrisponde anche il foro vedete con quello sotto altrimenti non potrà mai arrivare alla staffa rischiate di danneggiarla questo a posto qui a posto il manicotto lo inseriamo ancora meglio perfetto che bellezza adesso vado a rimuovermi queste due viti e mi metto l'altro qui ecco così che precisione ragazzi ma pensate solo al progetto per montare per creare una cosa di questo genere per montare no perché lo facciamo noi a che studio siamo davanti credibile sarà che io non capisco nulla certamente di 3d però quando vedo certe cose rimango sempre a bocca aperta bisogna anche capire perché costano così questi modelli però attenzione vedete questo è un modello che con una uscita si completa va benissimo la di agostini è stata onesta quello che invece non va bene è quando si fanno le nuove uscite con 120 uscite 130 uscite lì siamo veramente fuori dal mondo sono cose che non si devono verificare che purtroppo accadono ma non si dovrebbero assolutamente verificare perché perché quando c'è un aumento delle materie prime di un euro per l'aumento come hanno fatto con questa moto che giustamente per carità veniva 11,99 ve lo dico subito e adesso poi dalla trentesima uscita in poi c'è scritto che viene a costare un euro in più eccola qui 11,99 dall'uscita 30 il prezzo è di 12,99 va bene c'è stato un aumento di un euro ci sta quello che invece è inammissibile ma oggettivamente inammissibile è che poi si aumentino di 20 uscite le collezioni allora qui non parliamo più della materia prima qua parliamo di qualcosa che non andrebbe fatto per rispetto a noi che acquistiamo questi modelli e che anche se non sono né pane né acqua sono un hobby per noi molto importante che vorremmo continuare a fare ma e quindi a coltivare invece cosa succede un'uscita da 100 te la portano a 120 costano 13 euro l'una ragazzi 20 uscite a 13 euro l'una fa 260 euro quindi poi abbiamo un costo del modello di 260 euro in più perché ma sì mettiamo 120 uscite e poi più magari 98 euro per anzi di più perché se sono 120 uscite sono 118 euro più 240 euro delle 20 uscite in più non so se mi sono spiegato fate voi perché le prime due uscite sapete che costano sempre meno e non vuole essere una polemica questa vuole essere un modo per aiutarci a continuare e a far capire a loro a tutte le aziende qua non parliamo solo della D'Agostini a tutte le aziende che le uscite possono aumentare di prezzo ma non di uscite il modello con 100 uscite addirittura questo 91 si montano benissimo non esagerate non esagerate perché guardate che poi le perdete le persone non vi credete che la gente continua poi a comprare perché i soldi poi non ci sono poi se voi siete più bravi e pensate che io mi stia del tutto sbagliando e che niente di tutto questo possa essere preso in considerazione e va bene vedremo come si dice il tempo ci darà risposta andiamo avanti questo montaggio è terminato bene allora io direi che vi posso salutare un saluto a tutti voi un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari nell'altro video non vi ho salutato alla fine vi chiedo scusa e che stavo pensando a tante cose e soprattutto al fatto che il mio povero iscritto Diego che mi ha commissionato questo modello pazientemente ha atteso che passassero questi tre mesi che si sono resi in un modo o nell'altro necessari per avere il numero 27 che mi mancava però vedete adesso sentite sentite i pulsanti dentro funzionano perfettamente non è facile farli funzionare tutte e due c'è un metodo che vi avevo spiegato però purtroppo a me è arrivato fallato e ho dovuto chiedere la soluzione e la storia ve l'ho già raccontata nell'uscita precedente l'unica cosa è che io ritenevo che questi due interruttori all'interno potessero selezionare la luce acceso spento sul cruscotto invece in realtà ho paura che almeno questi perché poi c'è una copertura trasparente sul cruscotto quindi presumibilmente ci dovrebbe essere anche un led perché c'è un'entrata per un led dietro i comandi del cruscotto chiamiamolo così però qui invece non arriva nessun filo quindi non ho assolutamente idea io penso che sia più una cosa sonora per sentire il cambio delle marce sapete il cambio elettronico fa questo rumore qui quindi ecco non avrà nessuna funzione elettronica ma solo sonora che comunque è carino lo stesso ci vediamo al prossimo video uscita numero 47 poi ci sarà il video anche numero 48 il numero 49 seguitemi iscrivetevi attivate la campanella e condividete i video nei gruppi dedicati ciao a tutti ragazzi un abbraccio a tutti voi e vi ringrazio sempre sempre del tempo che mi dedicate che è sicuramente prezioso ciao a tutti ciao a tutti